Abbiamo saputo di questo atterraggio in elicottero del Presidente del Consiglio sul suolo napoletano dove andate a trovare lettieri. Il ragionamento che voglio fare sul Presidente del Consiglio è questo. Io lo trovo ormai inaffidabile sotto ogni punto di vista. Il 14 agosto ci ha preso in giro una città con quella firma su Bagnoli. Ha detto che avrebbe messo i soldi per la bonifica e si sarebbe impegnato a riqualificare il territorio insieme alla Regione ma soprattutto insieme al Comune. Dopo alcuni giorni ha messo in campo lo sblocca Italia con la norma su Bagnoli dove ha espropriato il Comune e ha aperto oggettivamente la strada le mani sulla città. Ha detto che sarebbe ritornato a Napoli a verificare e dare concretezza all'impegno che aveva preso il 14 agosto, cioè le risorse per la bonifica su Bagnoli. Aveva preso l'impegno di ritornare per parlare e occuparsi di Scampia. Io già da alcune settimane ho inviato un report molto importante di un lavoro su Scampia, un progetto fatto insieme al Comune, il Dipartimento di Architettura, i comitati, le associazioni e nulla ho saputo. Ricorderete che il Presidente del Consiglio un giorno si recò a una scuola di Secondigliano dove disse che grazie al suo intervento avrebbe consentito l'apertura dei cantieri in quella scuola. Altra retorica del nulla, non c'è stato nulla di nulla, quei cantieri si sono aperti grazie al Comune che ci ha messo le risorse e ha messo in campo i lavori. Oggi, dopo aver creato l'accordo con Caldoro su Bagnoli, anche plasticamente la venuta a Napoli in elicottero per omaggiare Gianni Lettieri è evidentemente l'ulteriore conferma di quanto distante. Siamo noi rispetto a questo circuito politico-istituzionale che vorrebbe rimettere le mani sulla città, ma noi non glielo consentiremo. Noi siamo altro. Dispiace che siamo stati presi in giro il 14 agosto con quella firma, ma ormai il Presidente del Consiglio ha dimostrato tutta la sua inaffidabilità dal punto di vista istituzionale e politico ormai è evidente anche ai più piccini che Renzi di sinistra non ha veramente nulla. Ma Renzi sta facendo una cosa gravissima, sta violando la Costituzione, non tiene in alcun modo una città, non dialoga con gli organi costituzionalmente rappresentativi della città, un sindaco eletto democraticamente che lui attraverso il suo Ministro dell'Interno ha cercato di far fuori attraverso cavilli formali dalle funzioni di sindaco, non tiene conto del Consiglio Comunale, della volontà dei cittadini. Io credo che Renzi sta facendo qualcosa di profondamente antidemocratico, anti-istituzionale e devo dire che si sta assumendo responsabilità gravi. Noi non consentiremo un commissariamento di fatto e giuridico di una parte della nostra città, lo contrasteremo con tutte le azioni giuridiche e lo contrasteremo anche con una lotta politica non violenta ma molto dura e molto determinata. Quindi è un atteggiamento politico-istituzionale che io trovo antidemocratico in alterazione degli equilibri istituzionali e direi per certi versi senza precedente. Senza precedente sta dimostrando sulla città di Napoli atteggiamenti addirittura peggiori rispetto ai tre governi che si sono preceduti prima di lui. Questo è un motivo in più per ricandidarmi nel 2016, sarebbe straordinario da una parte il nazareno romano-napoletano, Renzi, Caldoro, Lettieri, dall'altro dare la voce a chi potere non ha. Quindi mettere in campo un'iniziativa popolare, politica, democratica, aprendo soprattutto ai giovani, aprendo soprattutto alle persone che vogliono veramente cambiare. Insomma siamo stufi di queste passarelle. Renzi ha fatto una passerella, devo dire, veramente incommentabile. Un Presidente del Consiglio che prima dice che sarebbe ritornato in città, si sarebbe occupato seriamente di bagnoli e di scampia della nostra città, viene in elicottero e si rega da Gianni Lettieri. Per me è straordinario. Un punto di vista politico non poteva far meglio. Da questo punto di vista è un genio. Credo che sia un genio della politica.